Il Doing Export Report di SACE è la guida pratica per le imprese SPARCLING, ossia le imprese che brillano. L'acronimo SPARCLING infatti racchiude le caratteristiche delle imprese del futuro. Smart, Proactive, Agile, Revolutionary, Kinetic, Leader, Innovative, New e Green. E noi di SACE le aiutiamo ad accendere la scintilla dell'export. Le nostre previsioni ci dicono che le esportazioni di beni italiane cresceranno del 3,7% quest'anno per poi consolidarsi il prossimo anno a un più 4,5%. Dall'agricoltura ai macchinari le maggiori occasioni di business passeranno dall'evoluzione dai settori tradizionali alle industrie del futuro. E proprio con riferimento al futuro il nostro focus è sui beni sostenibili. Sui beni sostenibili sui quali noi siamo più che ottimisti e anzi direi fiero, perché sì, le imprese italiane sono tra i leader a livello mondiale nella produzione di tecnologie low carbon, ossia a basso impatto ambientale. E noi prevediamo che per questi beni il nostro export possa crescere nei prossimi anni a doppia cifra. Un ulteriore stimolo arriverà dalle nuove tecnologie. Le imprese che usano strumenti di intelligenza artificiale hanno una probabilità di registrare un maggiore export nei prossimi anni di quasi il 10% superiore rispetto a chi non li adotta. Le maggiori opportunità per il made in Italy passeranno dai paesi gate, ossia una porta per il futuro dell'export per crescita, ambizione e alto potenziale. Si tratta di 14 mercati che valgono 80 miliardi di euro di export che prevediamo potrà crescere del 5,4% quest'anno e del 7% il prossimo anno. Da est ad ovest, dal Brasile alla Turchia, dal Marocco al Golfo, fino al Vietnam e a Singapore. Si tratta di paesi in cui SACE c'è per le imprese, con le sue persone, con i suoi uffici e con i suoi strumenti. Grazie a tutti.